La giornata della memoria dell'impegno e ricordo delle vittime innocenti delle mafie ideata dall'Associazione Libera è stata celebrata oggi all'Aquila all'Auditorium del Parco nell'ambito del premio nazionale Paolo Borsellino. Una giornata importante perché il Consiglio regionale riconosce con un progetto di legge il sostegno alle attività del premio Borsellino grazie all'impegno del Presidente Sospiri e del primo firmatario Febbo. In apertura dei lavori firmato un protocollo d'intesa da tutti gli attori istituzionali, c'era per la Regione Presidente Marsilio. Una serie di testimonianze per gli studenti presenti tra queste quella del giudice Giuseppe Iala, componente del pool di Palermo, collega amico di Falcone Borsellino che per diversi anni nel doposisma peraltro ha operato all'Aquila quando il Tribunale provvisorio si trovava a Bazzano. Inevitabile commentare l'arresto di Matteo Messina Denaro. Secondo quello che sappiamo no, è però chiaro ed evidente che c'è un accordo tra le varie famiglie di suddivisione degli affari, tanto per capirci, per cui fanno a meno del vertice storico che c'era, però non bisogna pensare che questo la renda più debole, cioè la sconfitta della mafia deve ancora venire. Quello che posso dire è che però lo Stato, le istituzioni di questo Paese, quattro colpi giusti gli hanno dati, per cui forse sono condizionato dalla pandemia, mi viene di fare questo esempio, nessuno pensi che si è ricoverata, intubata, però è ricoverata per accertamenti, non sta molto bene, quindi bisogna continuare nell'impegno di lotta alla mafia perché i risultati indubbiamente ci sono stati, ma non sono ancora quelli che ci possono fare battere le mani per averla sconfitta, bisogna aspettare ancora. Alla fine degli anni Ottanta in un convegno a Milano ne parlò Falcone, cioè del grande rischio che non si potesse più pensare di relegare Cosa Nostra alla Sicilia, l'Andrangheta alla Calabria, la Camorra alla Campania e lui spiegò anche perché riteneva che c'era un rischio, più che un rischio, di poterla trovare anche in regioni che tradizionalmente non vedevano questa presenza, che è determinata agli affari. Adesso quando noi pensiamo che sono state sciolte per infiltrazione mafiose, amministrazioni comunali in Val d'Aosta, in Liguria, in Emilia Romagna, in Lombardia, ci rendiamo conto che questo è un grave problema, ma è un problema nazionale, non lo si può più regionalizzare al meridione dell'Italia, quindi dobbiamo stare tutti molto attenti nel contrasto. Grazie. Grazie. Grazie.